Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Damiano Conte, 55 anni, residente a Bassano. L'uomo giovedì sera sarebbe stato colto da un malore mentre al volante della sua auto percorreva via Carpellina a Rosà, diretto verso casa. Un arresto cardiaco improvviso e fatale. Solo pochi minuti prima di salire in macchina si era sentito al telefono con la moglie per accordarsi per la serata. Nulla faceva trapelare il drammatico epilogo. Conte attorno alle 19 ha perso il controllo del mezzo, ha tamponato in maniera lieve uno scooter che lo precedeva ed è finito in mezzo al campo di mais al lato della strada. Il primo a soccorrere il 55enne è stato proprio lo scooterista che ha subito allertato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto assieme agli agenti della polizia locale del consorzio Nevi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Noto, apprezzato, docente per anni all'ente di formazione IRIGEM di Rosà, la notizia del decesso di Damiano Conte ha fatto in un lampo il giro del web, lasciando nello sconforto tutte le persone che lo avevano conosciuto.